Un saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Damiano Fedeli. Oggi giornata da Bollino Rosso, sia per il traffico sia per il picco dell'ondata di calore, sulle autostrade di vieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle ore 22. In A1 in direzione Firenze c'è una coda di 2 km per traffico congestionato fra Aglio e Calenzano. Sempre in A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso fra Calenzano e la variante di Valico. Ancora in A1 lo svincolo di Firenze in Pruneta, chiuso per lavori fino a fine mese, è riaperto provvisoriamente in tutte le direzioni per il fine settimana fino alle 6 di lunedì. Passiamo alla A12 in direzione sud, coda per traffico intenso alla barriera di Rosignano. Veniamo alla FIPILI per lavori possibili disagi fra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!